Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del Crogiolo, ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che, a volte, mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio e rocaforte dove mi sono recato, una tappa è sempre stata fissa, l'Emporio, ed è lì che grandi tesori si celano, in attesa di essere scoperti e mostrati, portando a conoscenza di quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando la capitale della regione nebbiosa, Fulminis, mi sono recato personalmente nel mercato cittadino, dove mi è stato suggerito un prodotto che interesserà di certo ai collezionisti del TCG di casa Disney. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'Emporio del Crogiolo. In questo episodio, il mercante consiglia la Collector Edition per il centesimo anniversario targato l'Orcana. La scatola raffigurerà in primo piano le sei carte protagoniste appartenenti alla collezione, con il titolo del gioco in bella vista in alto, quello dell'edizione in questione ed il simbolo del centesimo in basso riportati sulla parte frontale, solo il logo della casa distributrice sul lato destro e la semplice trama olografica che caratterizzerà l'intero accessorio su quello sinistro, le sei icone degli inchiostri presenti nel gioco sulla parte superiore, le informazioni legali del caso indicate in basso ed il contenuto dell'articolo descritto sul retro della confezione. All'interno del prodotto troverete quattro bustine di espansione del secondo set Rise of the Floatborn, che vi potranno tornare utili per arricchire o la vostra collezione o completare il deck che avrete deciso di giocare in questo secondo atto del GCC, e le sei carte stile enchanting caratterizzate dalla dicitura, cento in basso al posto del logo che ne indicherà la rarità, e con firma olografica su ogni artwork da parte dell'artista che ne ha realizzato l'illustrazione, che raffigureranno diversi personaggi dell'universo Disney appartenenti sia all'espansione The First Chapter, come Genie, Power Unleashed, disegnato da Eric Goldberg, Stitch Abomination di Alex Coopersmith, Maleficent Invited di Lorelai Bovet, assieme a Maui Demigod di Bill Schwab, e di Rise of Floatborn, che conterà la presenza di Mickey Mouse, Friendly Face di Mark Hen, ed Elsa Glovoff di Brittany Lee, che chiuderà questa carrellata di meraviglie. Paragonando questa gift con quella dello scorso set, qui di certo c'è di più, e personalmente l'ho trovata anche pensata meglio, dato che le carte al suo interno a tutti gli effetti avranno un valore nettamente superiore rispetto alle due jumbo di Ade e Mulan, che, per quanto belle possano essere, avranno uno scopo puramente collezionistico. Qui, invece, non solo sarà intrinsecato quest'ultimo valore, ma potranno tornare utili anche a chi gioca, magari ai partiti del Pimp, che in queste carte troveranno pane per i loro denti. E quindi, converrà acquistare questo prodotto? La Collector verrà venduta indicativamente a 50€, ma, sento già le voci nella testa, sarà molto difficile, voglio anticiparvelo, trovarla a questo prezzo. Personalmente l'ho acquistata a 60€, e se sarete interessati vi lascerò il link di Grande Inverno in descrizione. Tornando a noi, all'interno della scatola ci saranno 4 bustine dal costo indicativo di 8, 7, 6€ l'uno, dove, se sarete fortunati, potrete trovare anche delle carte di un certo valore, come Bell, ad esempio, mentre per il sottoscritto le bustine non hanno avuto un effetto wow tanto da farmi saltare sulla sedia, e le 6 carte che singolarmente supereranno abbondantemente 10€ a copia. Vedasi Elsa, con un valore minimo di 20€, Topolino, sempre 20€, assieme a Stitch, con il medesimo valore delle ultime due. Maleficent, 15€, Maui, 12€, assieme al Genio, che avrà lo stesso costo del semidio. Per un totale complessivo, se prendiamo ogni bustina ad 8€, attualmente parlando di 131€. Per quanto mi riguarda quindi la risposta è sì, o almeno per quello che l'ho pagata, ma già su Ebay ho visto costi fuori di testa, quindi cercatene l'Ether per avere la vostra copia personale a buon mercato, soprattutto perché ci sarà da tenere a mente un fattore molto importante. Questo articolo sarà limitato, non ne stamperanno altri oltre a questo, e ciò farà della Collection un vero e proprio oggetto da collezione, da tenere sealed in una teca di plexiglass in attesa che il prezzo salga per eventuali rivendite. Arconte, ma sei sicuro della previsione che stai facendo? In realtà, devo dirvelo, no. Nessun investimento lo è, a dire il vero, e con il senno di poi si rischierà di mangiarsi i gomiti per non averlo fatto. Ma i presupposti sono buoni, scarsa disponibilità, carte firmate e targate centesimo totale del valore interno, che attualmente parlando supera di gran lunga il prezzo consigliato, al momento non si parla di cifre importanti, ma in futuro chissà. Come già vi ho detto, ogni investimento ha una quota di rischio, ospetterà voi assumervela acquistando dal vostro rivenditore di fiducia o sul mercato secondario questa edizione, o lasciare che passi, magari volgendo lo sguardo verso nuovi orizzonti. Prima di concludere, volevo ricordarvi che, a partire dall'8 dicembre, arriverà su Fantasia la ristampa del primo set di l'Orcana, The First Chapter, così da dare a tutti coloro che vorranno partecipare il 23, sempre dello stesso mese, al Got, Capre e Principesse, organizzato dagli stessi signori di Fantasia, la possibilità di completare i propri deck. È Arconte, e se non dovessi trovare la leggendaria che mi serve? Nessuna paura, potrete usufruire del mercato delle singole disponibile sul sito del negozio, dove troverete tutto quello che servirà per arrivare al torneo, pronti a raccogliere quanti più punti l'or possibili. È il tutto a casa vostra da quando avrete effettuato l'ordine in sole 24-48 ore. Per maggiori informazioni, come sempre, vi lascerò tutto in descrizione. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio, verso mete più o meno distanti, dove gli empori del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica, non appena sarò tornato dal mio Girovagare. A presto!